Nell'ambito della ventitresima mostra del libro è stato presentato l'altro giorno Quaderni Trentini e altre poesie di Massimiliano Floriani. Ci puoi raccontare questo lavoro? Questo è un lavoro di diversi anni perché le poesie risalgono dal 1996 al 2014 perciò sono 18 anni di lavoro e sono 130 poesie, perciò è un libro di 208 pagine, molto ricco diviso in 19 sezioni anche per una comodità nella lettura e dà i contributi di 9 persone alle quali sono molto legato e una su tutte che parte proprio come il primo intervento è una breve prefazione di Francesco Monti, il nostro concittadino che è scomparso qualche anno fa che aveva scritto una prefazione per una piccola silucia di poesie nel 2000, perciò diversi anni fa. Poi Romano Turrini, Beatrice Carmellini, Mario Corradini, Mariano Bosetti che è stato sindaco di Caravino per vent'anni ed anche storico della Valle dei Laghi, poi c'è Roberta Bonazza, Giancarla Tognoni, la copertina di Carlo Sartori che avevo un buonissimo rapporto con lui ed è un... ho scelto proprio questo cavallo in copertina perché è un disegno che mi ha regalato dicendo che secondo lui era un cavallo, era un ritratto che mi ha fatto e che mi ha regalato. E questo libro si intitola Quaderni Trentini perché sono quattro quaderni trentini, uno si intitola Tutto si inarca la pace che parla del paese di Ranzo e di Vezzano che è un piccolo borgo 800 metri in montagna che è il paese di mia madre, perciò racconto un po' la condizione montanara e contadina del novecento trentino che è di Ranzo ma assomiglia chiaramente come tutti i paesi di montagna. C'è il secondo quaderno trentino che parla del giudicarie e parla di un amore vissuto in montagna. Il terzo quaderno trentino parla di Carlo Emanuele Madruzzo che fu l'ultimo principe vescovo dei Madruzzo e l'ultimo della casata che è morto nel 1658 estinguendo la casata di Madruzzo ed è una sorta di siloge poetica dove parla della sua difficoltà ad essere principe vescovo. E l'ultimo che si intitola Baccanale delle Vergini è dedicata ad Arco, perciò un omaggio alla mia città. E dove nasce questa passione per la poesia? La passione per la poesia nasce dall'elementare, da quando un caro maestro degli elementari, Daniele Miorelli, mi mise il seme della letteratura leggendoci l'epica, leggendoci i pascoli e lì insomma ho cominciato a leggere. Poi successivamente nelle scuole medie con la professoressa Pedri, la compianta Maria Luisa Pedri che ci aveva fatto veramente amare Dante e lì ho continuato a leggere e ho cominciato a scrivere della verità in terza media, 15-14 anni. Ok.